ciao a tutti l'altro l'altra sera ieri sera veramente parlavo con le ragazze in un gruppo di maglia virtuale spiegando che ho dovuto disfare un sacco ma un sacco di maglie perché avevo fatto proprio l'errore del principiante e avevo fatto un join con la maglia ritorta e avevo detto che se per caso facciamo questo errore e ci rendiamo conto durante la lavorazione del primo ferro possiamo correre ai ripari e quindi volevo farvi vedere come allora praticamente adesso io volutamente farò il join con la maglia ritorta quindi così è come dovrei fare il join se potete vedere qua con tutte le maglie nella stessa direzione invece adesso per fare un errore giro questo e faccio il mio join sto usando il ferro piccolo perché non volevo mettere su tante maglie è un po macchinoso ma ce la faremo ecco il join adesso comincio a lavorare il primo round io ho detto prima ferro ma sono round perché stiamo lavorando in tondo primo giro e mentre sto lavorando dico oh my ho fatto il join ritorto come posso fare allora dobbiamo arrivare alla fine del primo giro quindi adesso metto in pausa e torno quando sono quando sono torno quando arriva l'ultima maglia ok ho ancora l'ultima maglia da fare e adesso sono a dove io ho fatto il mio join e questo è il punto questo è il questo problema che si vede proprio che è girato male siccome abbiamo fatto solo un giro possiamo correggere facendo così ferro sinistra sotto la prima maglia e abbiamo tolto il problema comincio il mio secondo giro e vi faccio vedere che tutte le mie maglie sono tornate nella posizione giusto questo trucco funziona solo alla fine del primo primo giro per un progetto piccolo così magari sembra niente però se hai avviato per uno scialle bottom up o un maglione e collaborato con dei feri piccoli hai messo su 300 400 maglie credetemi fare questo ti risparmierà un sacco di tempo e questo è tutto ciao